Prenderemo sicuramente la mano, perché adesso bisogna centrarlo prima di tutto, perché la lavorazione della ceramica, soprattutto quella fatta a mano, si contraddistingue proprio dal fatto che sono tutti oggetti circolari che fanno parte sempre di girare, perché si lavora intorno, nel senso che il pezzo gira e la lavorazione avviene da fermo. Un di questi lignini, così dobbiamo fare la signora, per la foto, cioè che se l'ha fatta la signorina, sono sicuramente riuscire a farlo pure lei. Anche no? Perché poi sembra, mi dice, ma con il pennello fai l'onda. Ho visto già da come ha spinto l'argilla lì, è una cosa che lei può fare sicuramente. Adesso, dove siete diretti, dove state andando? E dopo di qua andiamo a cena. Penso che andiamo a cena, sì. Andiamo tornando in albergo, poi... E da stamattina che state di giù? Sì. Stamattina poi abbiamo fatto una camminata sul lungomare, sotto il sole, che è stata niente male. Sì, sì. Sotto il sole, appunto. Eh, perché non abbiamo potuto fare l'escursione in barca e quindi l'abbiamo fatta a piedi. Ah, ma non si è fatta l'escursione. No, perché il mare era mossa. Le onde sbattevano troppo. Ti metti in posizione, signore, facciamo la foto quando... Mentre lei lavora. Dai, puoi passare la sinistra. Sì, sì. Vuoi entrare? Peppe! Agostino! Ehi là! Dove sei? Allora facciamo la scena per la telecamera, dai. Ok, la lavorazione. Pisa il microfono? Ce l'hai? Ok, vai. No, mentre lui parla gli mettono la mano. Ah, ok. Scusi. Ok. Ci scelta di qua. Ciao. Ah, siamo la di qua.